Ma che cosa fa un editor e soprattutto se faccio un editing al mio testo, aumento oppure no le possibilità di trovare un editore? Questa domanda me l'avete fatta parecchie volte, io ho cercato di glissare, diciamo così. No, non è un tabù, semplicemente sono in conflitto di interessi perché faccio la editor, ho un'agenzia editoriale, quindi la cosa va gestita bene. E la cosa più onesta che posso fare francamente è raccontarvi quella che è la mia esperienza in questi 12, quasi ormai 13 anni di lavoro, voi ne farete quello che riterrete più opportuno e soprattutto delineare una sorta di identikit dell'autore, quello che può chiedere a un editor e dell'autore che secondo me non ha molto senso appunto, che si avvalga di questo professionista. La prima cosa che ho imparato è che un editor non si può limitare a leggere le storie e lavorare alle storie perché dall'altra parte ha un autore che quasi sempre o non conosce minimamente la filiera oppure è stato sballottato, diciamo così, ne ha buscate un po' a destra e un po' a sinistra e quindi ha bisogno di avere anche delle risposte. Un'altra cosa che mi è stata chiara abbastanza in fretta è che un autore vuole sapere chi sta leggendo e valutando il suo testo, vuole conoscere il suo nome e il suo cognome, se è possibile anche farci due chiacchiere, magari vederlo. In effetti una storia e il proprio libro è anche una questione molto intima e capire chi ho dall'altra parte se mi va a genio è indispensabile perché devo fidarmi della sua opinione, devo fidarmi dei suoi consigli, dei suoi suggerimenti. Un'altra cosa fondamentale è che nella maggior parte dei casi un autore viene da te, è editore, ti dice voglio un editing ma poi scopri che non ha molto chiaro che cosa sia poi nel concreto fare un editing. Alcuni autori pensano che si tratta di prendere il manoscritto, darlo a un tizio, lasciare il tizio lavorare a quel testo e arrivederci buonanotte. Il testo viene riscritto, sistemato e via dicendo. Questa cosa si può fare certo ma è più simile a un ghostwriting che ha un editing e sicuramente non aiuta l'autore a fare un percorso editoriale. Quindi l'editor non scrive il libro al posto dell'autore se no fa un altro mestiere ma soprattutto l'editor non è un correttore di bozze, magari fa anche quello ma quando sta facendo l'editing sta guardando un'altra serie di problemi, sta guardando alla storia come è strutturata, sta guardando ai personaggi se sono caratterizzati in un certo modo, ai dialoghi, alle descrizioni, allo stile, alle parole che sono scelte dall'autore, ai tic verbali, insomma si concentra su altri problemi. La correzione bozze è un'altra cosa. Confessione, c'è una cosa che ho veramente faticato ad accettare del mio lavoro, cioè che avendo per le mani un buon testo, con una buona idea, con elementi davvero interessanti, magari qualche lacuna, lavorato con tutta l'attenzione possibile, quindi avere per le mani alla fine un manoscritto solido di qualità non è garanzia di pubblicazione perché possono succedere infinite cose, infinite variabili, quindi bisogna stare molto attenti a pensare che dicendo a un autore guarda facciamo un editing e poi avremo un manoscritto bellissimo, tu possa anche dirgli quel manoscritto bellissimo lo pubblicheremo perché non si può fare. L'unico che può garantirvi che quel libro verrà pubblicato è l'editore e quindi veniamo alla questione clou. Un autore quando paga un editing è sicuro che quel libro lo pubblicherà? Ovviamente no, la risposta è no, chiunque vi dica il contrario sta mentendo, si può fare tutto il lavoro nel migliore dei modi ma non è detto che quel libro verrà pubblicato, quindi l'autore sa che in quel momento sta facendo un investimento che ha un suo rischio e allora la valutazione deve essere in base ovviamente ai costi e ai benefici ma soprattutto dovete stabilire il valore di quel lavoro, cioè se io pago per un editing fatto in maniera superficiale, per qualcuno che mi corregge il libro in maniera assolutamente sciatta, che non mi insegna niente e io faccio un percorso che non mi ha cambiato come autore, non ha aggiunto davvero nulla, ecco anche se dovessi pagarlo 100 euro, quei 100 euro sarebbero sicuramente troppi perché quel lavoro non ha alcun valore. C'è poi invece un lavoro di collaborazione, un editing che viene fatto insieme, si lavora il testo, si mettono a fuoco determinate problematiche, quindi può essere in qualche modo anche una sorta di corso di scrittura sul proprio lavoro, fatto passo a passo con un professionista. Però torniamo alla vostra domanda, non è detto che dopo questo percorso voi troviate l'editore. Un editor serio si rifiuta di metterle mani su alcuni testi perché non ha alcun senso farlo. Dei libri bruttissimi anche editati rimangono dei libri bruttissimi e chi vi dice il contrario mette. L'ultima cosa che secondo me è molto importante è che un editor non basta, nel senso che quando un autore ha lavorato al testo, ha scoperto delle cose sulla filiera e quindi è pronto, cosa fa? Beh, prende il suo bel manoscritto corretto e dove va a chi parla? Ecco, un editor deve essere secondo me, anche se non lavora all'interno di una casa editrice, un anello di un sistema, di un processo, per cui deve avere degli interlocutori, deve conoscere degli editori ai quali proporre magari quel libro, deve conoscere degli agenti con i quali collaborare in modo tale che l'autore non rimanga solo con un manoscritto perfetto, correttissimo e meraviglioso, ma a chi lo può proporre. Quindi un altro aspetto importante è che l'editor costruisca o faccia parte di un network e quindi abbia dei contatti, altrimenti è un po' un'isola, un'isola magari competente, capace, che però non vi aiuterà a fare il passo successivo. Perciò vi assumendo, un autore che ha un mucchio di domande e ha bisogno di fare chiarezza, vuole lavorare sul proprio testo, ritiene che il proprio testo abbia bisogno di essere lavorato, vuole essere messo in contatto con dei professionisti, che possono essere gli editori, che possono essere gli agenti letterari. Ecco, questo tipo di autore ovviamente può trarre beneficio da un contatto con un editor, magari senza fare nessun editing, peraltro. Un autore che invece ha già un editore, ha un agente letterario che si occupa di lui, che è già abituato a lavorare i propri testi, quindi ha un meccanismo, diciamo, di produzione ben definito, scrive, corregge, magari ha qualche lettore disegnato, che può essere la moglie, un amico o un altro scrittore che gli dà dei consigli, ecco, questo tipo di autore difficilmente avrà bisogno di rivolgersi a un editor. Ovviamente questo è l'editor per come lo intendo io. Perché? Perché sono partita in un modo e poi lentamente le richieste gli autori hanno cambiato il mio modo di fare questo mestiere, perché bisogna cercare di rispondere alle esigenze di chi hai dall'altra parte. Quindi sicuramente tra le qualità dell'editor ci deve essere la capacità di ascoltare, di capire chi ha dall'altra parte, altrimenti è difficile essere utile. Ed è anche vantaggioso, perché come diceva Leonardo da Vinci, saper ascoltare significa possedere oltre al proprio anche il cervello altrui.